E' finita sotto accusa la forma di questa telefonata, per quanto riguarda i provvedimenti mi sembra che solamente nelle ultime ore si è aggiunto qualcosa di importante. La cosa triste è la retorica che si è montata intorno a questa vicenda. Si discute della forma e non si affronta il problema nella sua gravità, nella sostanza. Però ieri sera il politico del Rio, il ministro, ha convocato a Palazzo Chigi, Malagò e Tavecchio e un primo provvedimento c'è stato. Hanno revocato le deleghe all'Otito. Le deleghe al rinnovamento del calcio sono state tolte? Sì, le deleghe per le riforme. Mi è sembrato un atto dovuto dopo tutto quello che è emerso in questi giorni. Un personaggio che imperversa a destra e a manca, chiama le società senza avere alcun limite, promette, dispensa, impegna anche fondi con talune società. Mi è sembrato veramente inverosimile tutto quello che è accaduto. Io ho inteso soltanto porre un freno a un delirio di onnipotenza. Tra l'altro, personalmente e come società, abbiamo patito le pressioni di questo soggetto perché potessimo indirizzare le nostre mire su altre sponde. Ma non ci siamo lasciati assolutamente condizionare. Andiamo a parlare pure del contenuto della telefonata. Riassumiamolo, ti chiedo. Lui ha inizialmente cercato di portare avanti una propria tesi di pensiero, un programma che può essere anche condiviso in alcuni punti, ma non è stato garbato nella forma perché la prepotenza, la saccenza, l'arroganza nel corso delle telefonate l'hanno fatta da padrona. Non possiamo accettare questi metodi perché il metodo democratico è un metodo che deve esistere e deve essere il principio che ispira il pensiero di ognuno di noi. E allora sarebbe stato sicuramente più giusto e più corretto. In assemblea c'è un confronto e poi ognuno decide secondo quelli che sono i propri convincimenti. Lui invece, ripeto, con l'arroganza, con la prepotenza, con la saccenza, con la guasconeria, ha cercato di imporre le proprie idee, promettendo cose che poi chiaramente nei fatti non riuscirà e non è riuscito a mantenere.